Buongiorno, sono la dirigente scolastica di questo istituto e proverò a presentare la scuola o forse meglio a condividere alcune riflessioni. Bene, presentare una scuola significa prima di tutto presentare un modello educativo di riferimento, un modello che consenta di individuare orizzonti di senso che sappi aiutare a capire dove si voglia andare e con quali strumenti arrivarci. Ci siamo interrogati su questo per arrivare a definire il cardine cui agganciare tutte le nostre azioni. Dunque, il modello di riferimento è quello che abbiamo definito maieutico. Il tentativo è di evitare ciò che è stato definito ingozzamento cognitivo, con l'idea di mettere dentro, in un contenitore vuoto, le teste dei nostri bimbi ovviamente, quante più nozioni possibili. Ma educare viene da educere, tirar fuori, come il gesto creativo dell'allevatrice, tirar fuori le potenzialità di ciascuno, la creatività, la fantasia e attraverso l'istruzione, cioè lo strumento delle discipline, costruire per ciascuno il proprio percorso formativo, ma costruire insieme, insieme agli insegnanti, insieme ai compagni, secondo il proprio bisogno, secondo le proprie caratteristiche cognitive, emotive, comportamentali. L'orizzonte cui tendere infatti è proprio quello di una scuola non impostata sul nozionismo e sull'ascolto passivo degli insegnanti, bensì quello di una scuola agita dagli alunni, una scuola dove i bambini e i ragazzi debbano essere messi al centro e dove gli insegnanti debbano e possano guidare alla scoperta del mondo. E mettere al centro i bambini e i ragazzi significa provare a realizzare una scuola veramente inclusiva, nella quale non si possono fare parti uguali alla luce di un dubbio principio di equità se i bisogni sono differenti. Del resto credo sia corretto sempre parlare di normale specialità, normale specialità di ciascuno secondo un'idea di rispetto umano, prima ancora che un'idea di pedagogia dell'inclusione. Vero è che la scuola la fanno gli insegnanti, ciascuno con la propria sensibilità, con il proprio sistema di valori, le proprie credenze e non sempre si riesce a trovare la strada giusta da percorrere, pur con tutte le migliori intenzioni, ma lo sforzo è quello di tenere alta l'attenzione su questi temi, sulle questioni fondanti dell'educazione. In questo nostro istituto gli insegnanti sono abituati a interrogarsi, sono abituati a confrontarsi, a cercare insieme di creare ambienti di apprendimento stimolanti, motivanti, innovativi, per rimanere ancorati alle trasformazioni del mondo perché i bambini e i ragazzi sappiano stare correttamente dentro la complessità che caratterizza il nostro tempo, senza peraltro che la tecnica intesa in senso lato diventi un fine e non un mezzo. Resto convinta infatti che la scuola, almeno questo segmento formativo, il primo ciclo, debba essere necessariamente un percorso formativo e non meramente performativo, un percorso nel quale i bambini e i ragazzi possano permettersi di sbagliare, dove gli insegnanti stanno dalla parte dei bambini e non degli errori, dove costruire il proprio percorso insieme agli altri possa rappresentare veramente un'esperienza di crescita personale, per diventare cittadini competenti, responsabili, solidali. Queste sono le tre parole che abbiamo messo in evidenza nel nostro piano dell'offerta formativa. Questi sono i pilastri che vogliono sorreggere l'azione educativa e didattica dell'istituto. Insegnare è difficile, mette in campo tanto di sé, soprattutto sul piano emotivo. Tante volte gli insegnanti, tutti gli insegnanti, vivono l'esperienza del fallimento, della frustrazione, del non essere riusciti a trovare la chiave giusta per aprire, prima ancora che la mente di un bimbo, il suo cuore, perché se non si riesce ad agganciare un bimbo, un ragazzo, sul piano emotivo, poco si otterrà anche su quello cognitivo. Tuttavia quello che conta è mettersi nella condizione di non fermarsi, di continuare a provare e ritrovare e ritessere la tela delle relazioni docente-discente-famiglia dentro la dimensione collettiva della comunità educante, per trovare sempre nutrimento dal dialogo, dal confronto, a volte anche dallo scontro. Ecco, ritengo di poter dire che questa scuola è una scuola dove ci si parla, si costruisce, si sbaglia anche, si riprende a costruire con più forza e convinzione, con gli strumenti della tradizione e dell'innovazione didattica e pedagogica, perché gli uni non escludono gli altri. Il cooperative learning, ad esempio, non esclude la lezione frontale, il computer non esclude il libro, il futuro non esclude il passato. Non dirò delle tante cose che si fanno in questa scuola, saranno gli insegnanti durante la presentazione dei vari plessi a dare tutte le informazioni pratiche e utili a comprendere le potenzialità presenti in istituto. I progetti che arricchiscono l'offerta formativa sono ogni anno parecchi. Molti di essi sono stati resi possibili non solo grazie alla partecipazione a vari bandi, bandi vinti naturalmente, ma anche all'impegno finanziario dei genitori che hanno creduto nella loro validità. La pandemia ha di molto limitato le possibilità di esprimere la ricchezza e la significatività del nostro fare scuola. Tuttavia la pandemia finirà e tutto quello che era sarà di nuovo con vesti migliori. Perciò nell'augurare a tutti buon anno, ringrazio veramente tutti per l'attenzione.